Machine è un apparecchio professionale per l'alta disinfezione a freddo. Può essere dotato di una cupola per la disinfezione della strumentazione, delle mani e delle spazzole. La dotazione di Machine è composta da una griglia portoggetti, un piatto erogatore, un misurino dosatore da 100 ml e un cavo elettrico con trasformatore per la bassa tensione e sicurezza. Per la messa in funzione occorre eseguire poche e semplici operazioni. A serbatoio vuoto inserire 300 ml di liquido disinfettante, ovvero riempire 3 volte il misurino dosatore da 100 ml e versarlo direttamente sulla griglia portoggetti. Per accendere Machine occorre premere l'interruttore generale su ON. Il pulsante centrale promette l'avvio del ciclo di disinfezione. A liquido esaurito Machine si blocca ed emette un bip ogni 30 secondi. Per riprendere il funzionamento occorre inserire 100 ml di liquido disinfettante direttamente sulla griglia portoggetti. Per la pulizia periodica dei Machine è necessario semplicemente un lavaggio con acqua, sia del piatto erogatore sia della griglia portoggetti.